Ciao, bentornato sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. In questo video torniamo a parlare di smartphone, torniamo a parlare di posta elettronica Gmail e torniamo a parlare di allegati. In particolare vogliamo vedere come allegare alle nostre email una quantità illimitata di foto e video. Sì, perché nelle email tradizionali, quindi anche con Gmail, se spedisco un email con un allegato tradizionale, ho un limite di dimensione. Non posso inviare, nel caso specifico di Gmail, allegati più pesanti di 25 MB. Per cui se mando troppe foto o se mando un video troppo lungo non può essere inviato. Per questioni logistiche, un po' come nella posta tradizionale, quella col postino, col motorino, per capirci, è difficile pensare di poter spedire un paio di sci, due sacchi di cemento, eccetera. Perché sul motorino non ci stanno, quindi c'è un problema logistico. La stessa cosa avviene nel computer. Però Gmail ci permette di usare un sistema diverso per inviare una quantità illimitata di foto o video. In pratica, io devo tenere le mie foto su un deposito esterno al mio smartphone, sulla nuvola, sul cloud di Google, in questo caso Google Photo. Tengo le mie foto lì, così posso raggiungerle da qualsiasi dispositivo, dallo smartphone, dal tablet, dal computer, dal computer a casa di un amico, ad esempio, quindi non dal mio dispositivo, non occupano spazio sul mio cellulare e sono sempre pronte e disponibili per me. Se le tengo lì, posso inviare da lì, da Google Photo, un link, un codice, che permetta a un'altra persona di visionare solo le foto che intendo io. Quindi le mie foto sono lassù, sulla nuvola, protette da una password, al sicuro per quanto riguarda la mia privacy, ma se voglio posso mandarle a qualcun altro inviandogli il link, il codice che gli permette di vederle. Bene, vediamo allora che cosa dobbiamo fare. Innanzitutto, qui in alto sulla i ti metto il rimando alla serie di video in cui parliamo di Google Photo, anche se torneremo a parlarne in questa specifica serie. Io ho già le mie foto caricate sulla nuvola, caricate su Google Photo. Vediamo ora come da lì posso allegarle ad un'email e spedirla a una persona. Quindi vado ad aprire la cartella che nel mio telefono contiene le applicazioni di Google, vado ad aprire Google Photo, arrivo qui su Google Photo, vedo tutte le mie immagini, eccole qua, sono già pronte, disponibili, sono già quelle che voglio spedire, le seleziono, in questo caso tengo premuto su una di esse, ecco il visto, il segno di spunta, ne seleziono più di una, a questo punto non ho limiti, posso inviare tutte le foto che voglio perché verrà mandato un link al posto delle stesse. Benissimo, eccole qua, queste sono le mie foto, sette, desidero condividerle. E quindi premo sul pulsante condividi, questo è il simbolo di condivisione, si apre questa schermata e mi chiede che cosa voglio fare. Allora, innanzitutto, io non premo Gmail perché se io premessi Gmail queste foto verrebbero allegate ad un messaggio di posta in modo tradizionale. E va bene, è semplice, è veloce, è facile da utilizzare, benissimo, però c'è il limite dei 25 MB di dimensione, quindi magari nel caso delle mie sette foto probabilmente non è possibile spedirle. Quindi utilizzo il sistema del codice, quello del link, perché link è il nome giusto, codice ce lo diciamo così per capirci meglio. Quindi, crea link, premo, viene creato questo link che mi permetterà di condividere le mie foto. Fatto, il link è stato creato. Vedo che c'è anche un'opzione, consenti agli altri di aggiungere le proprie foto. Magari facciamo un link di gruppo, ognuno può mettere le sue foto di un evento comune. Siamo stati il tal giorno a una festa di compleanno, tutti quanti hanno fatto le foto, le condividiamo tutte in questo link. Io comincio con le mie, gli altri, se vogliono, possono aggiungere le loro. Non è questo il caso. Io metto a disposizione le foto che ho scattato per un'altra persona o per altre persone, quindi tutte le persone che eventualmente ricevono questo link da parte mia oppure persone che lo ricevono dal destinatario della prima email. Per il resto, anche quando tu mandi una foto come allegato tradizionale via email, quella persona che la riceve può anche rimbalzarla, inoltrarla a un'altra persona ancora, a un'altra persona ancora, a un'altra persona ancora, eccetera, eccetera. Quindi, niente di strano. Abbiamo creato il nostro link, ora lo dobbiamo inviare tramite post elettronica. Potrei usare WhatsApp, potrei utilizzare anche altre applicazioni a questo punto, funziona con tutto. Noi stiamo parlando di Gmail e quindi utilizziamo Gmail. Premo su Gmail, si apre la mia casella di post elettronica con già un messaggio iniziato contenente il link. Questa serie di lettere di fatto è il link che la persona riceverà e sul quale dovrà premere per vedere le foto. Ora io devo semplicemente finire il messaggio, quindi scrivo l'indirizzo del destinatario, mando questa email sempre a test-associazionemaggiolina.it, devo iniziare con la minuscola, scelgo l'indirizzo che ormai il mio smartphone ha memorizzato, test-associazionemaggiolina.it, oggetto, ti invio il link delle foto. E poi posso aggiungere anche del testo, questa volta lo scrivo sotto, quindi vado a premere qui, perfetto, ciao Daniele, ti invio le foto che ho scattato ieri alla festa. Mario, fatto, la mia email è pronta, ora devo semplicemente inviarla. Invio l'email, inviata, l'altra persona ora riceve un messaggio con il link che gli permetterà di vedere le foto che ho selezionato. Possono essere una, due, tre o mille, non importa, o possono essere ovviamente dei video. Bene, mi auguro che questo video ti sia piaciuto, in questo caso metti un mi piace dal pollice qui sotto, iscriviti al canale se ancora non lo hai fatto attivando la campanella, in questo modo sarai avvisato all'uscita dei prossimi video, e ora se ti va puoi abbonarti al nostro canale e vedere sempre qui su YouTube i video della serie speciale riservata agli abbonati. Ci vediamo presto, ciao! Ciao!